Erano le 19.49 del 14 aprile 1988. Una forza imbottita di esplosivo creò uno scenario da guerra nel cuore di Napoli. Sull'asfalto i corpi di cinque vittime, una militare statunitense in servizio presso la US Navy distanza a Napoli e con lei quattro civili napoletani. La macchina stava là, di fronte. Si è di uno scopo non indifferente, non indifferente. Paura, paura, paura. Non sapevamo quello che era successo. Ma qua c'erano fiamme e fuoco, vetri che cadevano. C'erano a terra perché lo spostamento d'alio fu forte, fortissimo. La vittima più anziana vendeva collanine di vetro su una bancarella a Calata San Marco. Le altre vittime italiane, due uomini e una giovane mamma, erano appena usciti da lavoro, a pochi passi dal luogo dell'attentato. Stamattina la cerimonia per ricordare quella tragedia, la prima volta dopo 33 anni. Una targa apposta proprio dove un tempo c'era lo USO, un circolo ricreativo per soldati americani, obiettivo dei terroristi. Volevano colpire l'America nella ricorrenza del raid aereo su Tripoli. 33 anni sono tanti, ma non sono così tanti per ricordare eventi così gravi. E dunque ci sembrava veramente opportuno in qualche modo sottolineare come la città non ha dimenticato un evento così grave. Gli effetti durano tra gli anni fino a questo 33esimo anniversario. Sempre ricordiamo questi eventi. Nonostante l'autore della strage sia stato individuato in tempi brevissimi e condannato all'ergastolo, non ha mai pagato con un sol giorno di carcere. Yunzo Okudaira, esponente dell'Armata Rossa giapponese, è oggi il latitante numero uno per la procura di Napoli, che ha di recente riaperto le indagini per dare un nome e un volto ai complici dell'unico colpevole individuato. Grazie. Grazie.